Ascoltiamo ancora una volta a proposito delle relazioni vissute con amore, nell'amore, queste riflessioni che scrive sempre Don Luigi Maria Epicoco, il quale ci richiama al rischio della dipendenza dalle emozioni che nella vita di oggi soprattutto tutti abbiamo e tutti rischiamo. Le scelte grandi della vita, scrive Don Luigi Maria Epicoco, risultano inutili quando non sono suffragate da una droga emozionale che ci dà magari costantemente la sensazione di essere vivi. È quello che oggi, è il rischio che noi oggi corriamo ma spesso ci cadiamo così completamente in questo rischio. E dice Padre Luigi Epicoco, è la grande trappola di ogni dipendenza qualunque essa sia. Perché? L'emozione risponde ad un bisogno perfettamente, completamente, totalmente umano che è il bisogno di sentirmi vivo. E molte volte io cerco questo bisogno di sentirmi vivo appunto in una emozione. Se sono felice, se mi sento amato da tutti, o meglio, se sono al centro dell'attenzione di tutti, se ecco sul mio post che ho messo nel mio profilo su Instagram, piuttosto che su Facebook, piuttosto che su Telegram, piuttosto che su TikTok, se lì ci sono milioni o tanti, tanti, tanti like, ecco che io mi sento veramente vivo. Ma guai se i miei like o le persone che giravano sempre attorno a me iniziano a venire meno, iniziano a mancare. Ecco che mi sento una nullità. Questo è un esempio di come oggi si vuole vivere e si vuole vivere non nella vita vera, ma basandoci sulle emozioni. Si cercano le emozioni per sentirsi vivi, ma le emozioni ci danno la sensazione della vita, ma non sono la vita. Ma guardate, anche nella vita spesso di tante coppie oggi c'è questo rischio, nelle relazioni di coppia. Se il matrimonio ormai è diventato un'abitudine, ecco che io cerco il tradimento, perché il tradimento mi dà emozioni. Quante volte ho sentito dire a degli sposi, donne e uomini, quindi mariti e mogli, che hanno tradito il loro coniuge, ho sentito dire, ma incontrando quella ragazza, stando con quella ragazza, stando con quell'uomo, io mi sento viva, io mi sento vivo, io sono tornato giovane. Questa è la droga, la dipendenza dalle emozioni. Noi ci vediamo domani, pari più tv, dritto al cuore. Ciao a tutti!